il focus appunto come dicevo è incentrato sul RUP quindi sul sulla centralità del RUP nel nuovo codice degli appalti e l'articolo 31 individua quelli che sono i compiti le funzioni le modalità anche di nomina del RUP assieme alle linee guida ANAC numero 3 che hanno che costituiscono la base giuridica per individuare proprio le regole di funzionamento del RUP quindi per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto quindi ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione della progettazione dell'affidamento dell'esecuzione quindi praticamente il RUP abbraccia e presente deve essere presente in tutte le fasi che riguardano gli appalti pubblici dalla fase di programmazione fino alla fase di esecuzione e collaudo ovviamente dell'opera pubblica dei lavori eh dei servizi o delle forniture pubbliche la cosa importante eh che cosa eh come avviene diciamo questa nomina del RUP avviene eh per ehm diciamo atti generali nel senso che può essere individuata già nella fase di programmazione no della della degli appalti per tipologie proprio di appalti e quindi può essere una una nomina fatta a monte oppure può avvenire per ogni singolo appalto no? Quindi è questa è la cosa è la cosa importante una modalità di scelta eh diciamo della della nomina del del RUP. Il RUP è nominato con un atto formale quindi occorre una nomina formale questa è una presazione non da poco eh perché in precedenza invece si riteneva che la nomina del RUP potesse anche avvenire eh diciamo con un atto non formale per esempio c'è una giurisprudenza che diceva che eh potesse avvenire anche con una eh nomina individuata eh per esempio su su una pratica no? Quindi un un appunto indicato su una pratica no? Occorre invece proprio un atto formale da parte eh del soggetto responsabile dell'ufficio dell'unità organizzativa che deve essere di livello apicale eh tra i dipendenti di ruolo quindi soggetto deputato al al ruolo apicale di di quella unità organizzativa individua tra i dipendenti eh di ruolo addetti all'unità organizzativa medesima eh dotati del del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura e la pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato quindi diciamo eh la legge non individua proprio il livello di inquadramento giuridico e dice che deve essere adeguato eh diciamo al eh al diciamo all'appalto che si deve andare a eseguire eh livello di inquadramento giuridico e comunque deve essere eh un funzionario diciamo in in linea di massima deve essere almeno un funzionario e eh se non c'è un funzionario diciamo nel nell'organico della della stazione appaltante diciamo deve essere o comunque se non c'è un funzionario in possesso eh del 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 della professionale delle competenze professionali adeguate poi vedremo quali sono queste competenze professionali adeguate che sono indicate nelle linee guida ANAC numero tre che sono relative appunto al al RUP comunque diciamo per esempio nei piccoli comuni laddove spesso diciamo manca un un funzionario può essere anche un un livello eh inferiore diciamo un anche un eh un livello c ecco per 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 intenderci eh e quindi eh diciamo eh eh è l'inquadramento giuridico unito alla professionalità adeguata ma sempre in rapporto in relazione al livello dell'appalto diciamo questo è un po' il eh il senso cioè quindi al eh il legislatore ha lasciato mano libera al eh ai singola alle singole amministrazioni e singoli enti eh sull'individuazione del responsabile unico del procedimento nel campo eh degli appalti laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio quindi eh occorre anche fare uno screening diciamo fare una verifica della sussistenza e della professionalità del RUP eh tra gli altri dipendenti in servizio nell'organico della stazione appaltante quindi anche al di fuori dell'unità organizzativa ecco queste sono le regole generali che sono fissate attraverso un mix che eh bisogna andare a verificare tra eh la l'articolo trentuno del decreto legislativo cinquanta del duemilasedici e le linee guida ANAC numero tre attenzione perché l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato quindi questo questa è un'altra disposizione molto importante che va a completare diciamo il tassello eh informativo che riguarda proprio eh la nomina del RUP quindi l'ufficio del RUP l'incarico di RUP è eh obbligatorio e non può essere rifiutato quindi questa è eh diciamo una disposizione che deve essere ovviamente tenuta in adeguato conto da chi eh nomina diciamo la eh il responsabile unico del procedimento e chi naturalmente riceve questa nomina. Vediamo quelli che sono i limiti anche alla nomina del del RUP. Innanzitutto il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara ovvero nelle procedure in cui non vi sia bando avviso nell'invito a presentare un'offerta quindi comunque l'operatore economico che contratta diciamo eh con la pubblica amministrazione perché è stato individuato con l'affidatario diretto nella eh nell'affidamento appunto diretto eh nei casi in cui è possibile per limiti di importo che vi ricordo oggi con la normativa derogatoria introdotta dal decreto legislativo eh eh settantasei scusate dal decreto legge settantasei duemilaventi convertito nella legge cento ehm centootto del centoventi del duemilaventi eh e e poi modificato anche dal decreto legge settantasette duemilaventuno convertito nella legge cento centootto del duemilaventuno eh noi abbiamo il limite per l'acquisto di forniture e servizi che è di centotrentanove mila euro per l'affidamento diretto di forniture e servizi il limite è centotrentanove mila euro e quindi anche in questo caso il l'operatore economico individuato deve essere a conoscenza eh del nominativo del RUP così come nelle procedure negoziate oppure nelle procedure di gara nel bando o nelle lettere d'invito deve essere indicato eh necessariamente il nominativo del RUP. Per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico quindi ovviamente parliamo di appalti di di lavori eh diciamo oppure eh diciamo i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura quindi la scelta per esempio di un progettista è chiaro che eh e sono necessarie alcune competenze specialistiche di carattere tecnico no? Se si deve realizzare un'opera se non eseguire i lavori e il RUP deve essere un tecnico dovrebbe essere un tecnico ma attenzione questo è molto importante perché ove non sia presente tale figura professionale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare quindi l'ingegneria ha fatto una scelta una scelta molto precisa quella di affidare questo incarico così importante eh in ogni caso a un dipendente no? Quindi anche nel caso in cui manchi una professionalità adeguata perché non c'è dubbio quando si eseguono lavori quando la stazione appaltante esegue lavori opere anche diciamo lavori eh minimi quali possono essere i lavori di manutenzione ma il RUP deve essere un interno quindi ovviamente deve essere scelto tra le figure tecniche eh di cui è dotato organico dell'amministrazione ma se non c'è nell'organico dell'amministrazione questa figura professionale questa figura tecnica allora le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare quindi comunque non si esternalizza diciamo questa funzione molto importante all'interno dell'amministrazione importante perché tutto ruota attorno alla figura del responsabile unico del procedimento e quindi eh in ogni caso anche laddove il RUP sia sprovvisto delle competenze professionali tecniche nei lavori da eseguire comunque deve essere un dipendente dell'amministrazione e eh in questo caso appunto le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare il RUP poi nell'esercizio delle sue funzioni è qualificabile come pubblico ufficiale quindi la giurisprudenza lo ha qualificato come pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni appunto di RUP queste funzioni non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse quindi eh laddove ci siano ipotesi di conflitto di interesse il RUP non può assumere questa funzione in particolare eh sono situazioni di conflitto di interesse quelle che causano obbligo di astenzione ossia le attività che possono coinvolgere interessi propri o di suoi parenti oppure di persone con le quale abbia frequentazione abituale ovvero di soggetti con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o crediti o debiti significativi ovvero di soggetti di cui sia tutore curatore o procuratore ovvero di enti associazioni o società di cui sia amministratore e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza ecco in tutti questi casi si configura una situazione di conflitto di interesse e quindi il soggetto eh individuato come RUP non può assumere diciamo questo incarico quindi deve farlo presente ovviamente eh che eh diciamo la sua situazione eh versa in una appunto di queste eh situazioni previste dalle linee guida ANAC numero tre e quindi eh diciamo in questo caso solo in questo caso è legittimo il rifiuto diciamo il eh diciamo o naturalmente non il rifiuto ma deve far presente questa situazione di conflitto di interesse poi naturalmente eh il dirigente valuterà diciamo questa situazione e eh prenderà le sue eh determinazioni le funzioni di RUP non possono essere poi conferite ai soggetti condannati anche con sentenza non passata in giuricato attenzione quindi anche con sentenza non definitiva per quindi di primo grado o di secondo grado per reati contro la pubblica amministrazione quindi i nei limiti bisogna considerare eh anche diciamo la eh il casellario giudiziario del del RUP perché nel caso in cui il RUP sia stato condannato per reati contro l'APA anche con sentenza non definitiva e allora in questo caso non è possibile eh conferire diciamo l'incarico di RUP a quel soggetto. A proposito dei requisiti eh del RUP vediamo questa domanda. Una condanna per abuso edilizio rientra nella fattispecie di reati contro l'APA che impediscono il conferimento delle funzioni di RUP quindi abbiamo visto che ci sono questi limiti nel caso di condanna per reati contro l'APA ma un abuso edilizio rientra nella fattispecie di reati contro l'APA ed è uno diciamo che capita diciamo che ci possa essere una condanna di di questo tipo la risposta è no. L'abuso edilizio è un reato urbanistico previsto dall'articolo 44 del DPR 380 del 2001 quindi testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che si concretizza quando viene effettuato un intervento sul territorio senza l'autorizzazione necessaria per costruire o quando l'intervento è difforme dall'autorizzazione concessa. Non rientra quindi tra i reati contro l'APA previsti dagli articoli 314 e seguenti del codice penale. Quindi l'abuso edilizio è un reato urbanistico non è un reato contro la pubblica amministrazione quindi se ci fosse una condanna per abuso edilizio questo non può essere elemento ostativo alla nomina del RUP Vediamo i compiti del RUP. Abbiamo detto che i compiti del RUP sono diciamo i più svariati nel senso che il RUP si occupa praticamente di tutto dall'inizio alla fine quindi dalla fase proprio di avvio delle procedure di selezione del contraente fino alla fase di esecuzione quindi abbraccia diciamo tutte le fasi degli appalti pubblici. Quindi vedete svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione quindi veramente abbraccia tutto. È una figura cardine, è una figura chiave di tutti i procedimenti amministrativi perché vi ricordo il RUP è una figura introdotta dalla legge 241 del 1990 ma ha acquisito una connotazione particolare proprio nel nel in tutte le fasi appunto degli appalti di lavori, servizi e forniture che è una è una tipologia particolare di procedimenti eh previsti per la pubblica amministrazione tant'è vero che il codice degli appalti non rinvia la legge 241 del 1990 eh o meglio non rinvia solo alla legge 241 del 1990 ma eh ne disciplina in eh nello specifico diciamo tutte le eh modalità di svolgimento di questo eh delicato incarico. Quindi vedete oltre ai compiti specificatamente previsti da alta disposizione del codice il RUP formula proposte fornisce dati anche per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali ovviamente laddove sia stato nominato prima eh se non è stato nominato prima non non ha diciamo questa prerogativa nonché degli atti di programmazione prima intendo la nomina generale che di cui vi ho parlato prima non chiede gli atti di programmazione dei contratti di servizi e di forniture cura il controllo ecco questa è la cosa più importante il controllo no su tutte le fasi degli appalti sui livelli di prestazione di qualità e di prezzo degli appalti poi ovviamente vedremo la prossima settimana qual è eh diciamo la differenza con i compiti del DEC negli appalti di fornitura e servizi il direttore di esecuzione del contratto eh che peraltro eh negli appalti entro un certo limite si eh si associa appunto alla alla figura del RUP e vedremo anche le differenze tra eh le due figure di cura anche il corretto e razionale svolgimento delle procedure segnala eventuali disfunzioni impedimenti ritardi nell'attuazione di interventi accerta la libera disponibilità di aree immobili nel caso di esecuzione di lavori fornisce all'amministrazione i dati relativi alle fasi di attuazione di intervento propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni propone indizioni una conferenza di servizi propone anche un piano di controlli effetto lui stesso dei controlli anche a sorpresa diciamo eh soprattutto sui cantieri quindi eh è un ruolo veramente diciamo a trecentosessanta gradi abbraccia tutte le fasi eh del procedimentale gli appalti pubblici ed è un ruolo veramente eh delicato tanto che viene definito come il dominus diciamo della procedura di appalto pubblico la base giuridica dei compiti del RUP va poi completata con l'articolo sei della legge duocento quanti nel 1990 non dobbiamo dimenticarla diciamo la legge fondamentale sul procedimento amministrativo in base al quale la responsabile il responsabile del procedimento valuta ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione e di presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento accerta di ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti al luogo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria quindi il RUP e il dominus come vi dicevo per quanto riguarda l'accertamento dei fatti che sono alla base eh poi dello svolgimento dell'istruttoria in particolare può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali questa è la base giuridica eh in base alla quale in effetti è sorto poi l'istituto ricepito dal legislatore ma dopo che la giurisprudenza aveva evidenziato diciamo questo aspetto del soccorso istruttorio no? Vale a dire la possibilità di intervenire per sanare eventuali irregolarità nella presentazione eh dei dei documenti da parte del soggetto privato quindi in questo caso nel da parte degli operatori economici che partecipano a una procedura di selezione per la giurigazione in appalto pubblico quindi in questo caso il soccorso istruttorio trovava la sua base giuridica nell'articolo 6 del legge 241 del 1990 perché era previsto appunto che il Ruppo potesse eh intervenire no? Per per chiedere eh a supporto dell'istruttoria il rilascio di dichiarazioni o la rettifica vedete di dichiarazioni istanze erronee o incomplete quindi è esattamente il soccorso istruttorio poi recepito dall'articolo 83 del decreto legislativo 50 del duemila sedici propone poi l'indizione o avendo la competenza indice le conferenze di servizi questo è già previsto anche nell'articolo trentuno del del decreto legislativo 50 del duemila sedici cura le comunicazioni le pubblicazioni e le notificazioni previste dalla dalle leggi e dai regolamenti quindi è il Ruppo che deve assicurare la pubblicità degli atti relativi agli appalti pubblici adotta ove ne abbia la competenza il provvedimento finale ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione quindi se ne ha la competenza quindi la competenza emanare atti aventi rilevanza esterna il Ruppo adotta il provvedimento finale dopo aver fatto tutta l'istruttore altrimenti redige eh diciamo la eh lo schema dell'atto di provvedimento eh finale poi da adottare e lo trasmette all'organo competente per l'adozione quest'ultimo ove diverso dal responsabile del procedimento non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale quindi se il dirigente per esempio non è d'accordo con quello che è l'esito di istruttoria eh effettuata dal Ruppo eh non è che non può adottare una determinazione diverso lo può fare ma deve darne adeguata motivazione nel provvedimento finale quindi questa dimostrazione dell'importanza della rilevanza del ruolo della funzione del Ruppo veniamo ai compiti del Ruppo quindi a completamento del quadro normativo sulle funzioni del Ruppo le linee guida ANAC numero tre al punto tre punto uno prevedono che fermo restando quanto previsto dall'articolo trentuno e da altre specifiche disposizioni del codice nonché dalla legge sette agosto mil novecentonovanta numero duecentoquarantuno il Ruppo vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento quindi eh questa funzione di controllo anche che è molto importante la vigilanza del Ruppo sullo svolgimento di tutte le fasi degli appalti pubblici ed è questo proprio che eh diciamo fa individuare il Ruppo come il dominus delle eh procedure di appalto perché proprio deve vigilare il compito di vigilare anche se questo compito naturalmente ce l'hanno altre figure pensate nei lavori al direttore dei lavori e nel negli appalti di fondi dei servizi laddove viene nominato dal direttore di esecuzione del contratto ma comunque il Ruppo è il dominus nel senso che queste figure sono ausiliari del Ruppo perché è il Ruppo che ha il compito poi di vigilare sullo svolgimento di tutte le fasi degli appalti pubblici quindi rientra nella funzione del Ruppo come si vede il controllo sull'operato della commissione di gara nel caso di appalto da giudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quindi anche quest'ulteriore compito anche laddove è stata nominata una commissione di gara che ha naturalmente effettuato la sua valutazione in autonomia e così deve essere ma il Ruppo deve comunque effettuare la sua valutazione sulla legittimità dell'operato della commissione di gara a dimostrazione del fatto che ha una vigilanza diciamo che si rileva in tutte le fasi e rispetto a tutti i soggetti che poi intervengono nella esecuzione nello svolgimento della procedura di appalto pubblico. A proposito della commissione di gara e poi vedremo eh diciamo molte molte volte eh ci si preoccupano anche eh faccio faccio bene faccio male diciamo come mi devo comportare poi vedremo vedremo e vi ho citato proprio dei dei casi eclatanti no? Di contrasti giurisprudenziali quindi a dimostrazione della complessità no? Della materia per cui voglio dire se ci sono contrasti addirittura tra sezioni del Consiglio di Stato e allora forse possiamo anche stare tranquilli nel senso che effettivamente trattiamo una una materia complessa e e non è detto che quello che noi riteniamo sia giusto possa essere condiviso anche da 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 un da un giudice nell'esecuzione diciamo della sua attività di verifica ma ripeto eh anche i giudici poi sono soggetti a interpretazioni e quindi eh ci sono anche dei molti casi in cui addirittura deve intervenire l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato proprio per dirimere questi contrasti eh tra eh di di giurisprudenza no? Che che appunto creano incertezza e quindi vi citerò più avanti appunto questi questi casi e anche abbastanza eclatanti. Vediamo questa domanda tra i controlli deputati a RUP prima della giudicazione dell'appalto quindi effettuati sulla sussistenza dei requisiti dichiarati rientra anche il controllo su quanto esposto dalle ditte partecipanti nelle offerte tecniche valutate dalla commissione di gara i cui componenti sono diversi da RUP quindi poi vedremo diciamo l'aspetto specifico della eh della partecipazione del RUP alla commissione di gara ma nel caso in cui i requisiti dichiarati siano stati valutati alla commissione di gara poi c'è anche eh il controllo da parte del RUP su questo aspetto vediamo la risposta l'articolo settantasette comma uno del decreto legislativo cinquanta del duemilasedici stiamo parlando però del delle offerte economicamente più vantaggiose perché solo in questo caso vi ricordo viene nominata la commissione di gara no? Poi negli altri casi vedremo come ci si comporta quindi l'articolo settantasette comma uno del decreto legislativo cinquanta del duemilasedici modificato dall'articolo quarantasei comma uno lettera B del decreto legislativo cinquanta sei del duemilasedici sette stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Questo l'abbiamo visto anche l'altra volta in presenza e abbiamo visto anche l'evoluzione normativa con il codice che aveva previsto che la commissione dovesse essere formata da esperti indicati dall'ANAC quindi l'ANAC aveva creato l'albo proprio di esperti da nominare le commissioni finalmente nel duemiladiciannove quando era riuscito a creare a costituire quest'albo interviene lo sblocca cantieri che sospende l'applicazione della norma per cui questa norma è sospesa fino al trenta giugno duemilaventitré e quindi questa nomina avviene come è avvenuto sempre da parte delle singole pubbliche amministrazioni. Quindi secondo il codice dei contatti pubblici dunque la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche quindi vedete è la valutazione affidata a una commissione giudicatrice quindi la competenza nella valutazione è effettuata eh alla ehm è demandata alla commissione eh giudicatrice il RUP invece ha competenza generale a svolgere tutti i compiti quindi ad adottare tutti gli atti della procedura quindi non soltanto per azioni di carattere materiale ma anche attività giuridica esternata in veri e propri atti quindi ai sensi dell'articolo trentuno comma tre del decreto risadio cinquanta del duemilasedici RUP ai sensi della legge duecentoquarantuno del miei centonomanta svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti quindi le norme la norma attribuisce a RUP lo svolgimento dei compiti rimarcando comunque il ruolo centrale di ausilio istruttorio e non solo che l'organo in questione riveste nell'ambito delle procedure di gara mentre la commissione giudicatrice è organo straordinario deputato ad un'attività di giudizio consistente nella e limitata alla valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie questa distinzione di ruoli e di compiti è stata opportunamente indicata dal consiglio di giustizia amministrativa della regione sicilia con questa sentenza dell'anno scorso dell'aprile del 2021 questo che cosa significa significa che la giustizia ribadisce la differenza tra i due organi cioè nel senso che la commissione è un organo straordinario chiamato ad un compito importante ma ecco il compito che è la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico il RUP invece è il dominus di tutta la procedura di gara e svolge la sua attività anche di verifica su tutta la procedura di gara la fase di valutazione delle offerte tecnico economiche quindi è rimessa esclusivamente alla commissione di gara quindi la commissione valuta quindi offerte tecniche economiche ma solo questo sulla valutazione da parte della commissione però deve esplicitarsi la funzione di controllo e verifica da parte del RUP perché il RUP ha una funzione di carattere generale quindi deve andare a verificare anche la legittimità diciamo di questa valutazione ovviamente voi sapete bene che c'è una differenza tra legittimità e merito cioè nel senso che il RUP non è che potrà andare a sindacare ma com'è che qua hai attribuito diciamo un punteggio a questo e poi hai attribuito un punteggio a quest'altro a meno che quindi non potrà farlo perché ovviamente questa è una valutazione di merito rientra nella discrezionalità tecnica non può sostituire la sua valutazione a quella della commissione a meno che abbiamo detto anche l'altra volta non sia diciamo frutto questa valutazione di un errore macroscopico individuabile anche diciamo semplicemente da parte di chi non è un tecnico cioè se magari manca un elemento della valutazione ed è stato attribuito un punteggio è chiaro che il RUP ha il dovere diciamo di intervenire e capita diciamo in queste procedure non so se c'è qualcuno che vuole intervenire no mi era sembrato quindi vi dicevo la funzione di valutazione resta prerogativa della commissione giudicatrice e su questo il RUP non può intervenire nella valutazione di merito se non quando si tratti di correggere un errore che è macroscopico quindi del tipo manca diciamo l'elemento di valutazione come è fatto a attribuire questo punteggio è capitato per esempio un caso in cui mancava il piano di valutazione e è stato di un appalto di servizi è stato attribuito il punteggio lo stesso è chiaro che se manca il presupposto per l'attribuzione del punteggio è lì non si tratta di entrare nel merito della valutazione della commissione giudicatrice ma si tratta di correggere un errore macroscopico quindi questo lo può fare ma il compito del RUP comunque c'è il dovere comunque di intervenire se appunto il responsabile unico del procedimento si avvedesse di errori commessi quindi qualora si avvedesse di questi errori commessi è praticamente ed è macroscopico diciamo l'errore commesso e allora ha il dovere di intervenire diverso il caso della valutazione questa è una prerogativa esclusiva della commissione giudicatrice quindi il RUP non può intervenire per correggere diciamo una valutazione perché si tratterebbe di sostituire la sua valutazione con quella della commissione questo non può non può fare quindi vedete non può adottare atti che incidano sulle prerogative della commissione ad esempio non potrebbe riformulare la valutazione quindi il controllo del RUP dovrà limitarsi a rinviare gli atti alla commissione evidenziando le perplessità o gli errori potenziali di scontrato quindi nel momento in cui il RUP riceve gli atti alla commissione va a verificare questi atti non è convinto diciamo dell'adozione della procedura ma non ripeto non può diciamo riformulare una sua valutazione sostituendola a quella della commissione ma soltanto correggere errori diciamo evidenti nella procedura e allora reinvia gli atti alla commissione in caso invece di conferma del proprio operato e del mantenimento da parte del RUP della propria posizione arbitro del procedimento diventa direttamente il dirigente responsabile del servizio che dovrà adottare la decisione finale quindi nel caso in cui appunto si formi un contrasto capitato capita tra RUP e commissione di gara e allora poi alla fine l'arbitro che decide tutto è il dirigente del servizio se infatti il giudizio è nella fisiologia del procedimento di gara demandato alla commissione che deve attribuire il relativo punteggio il contrario sactus non può che essere demandato alla commissione stessa che deve procedere al rinnovo della valutazione quindi come abbiamo detto il RUP rileva diciamo una evidente un evidente macroscopico errore rinvia gli atti alla commissione che dovrebbe procedere a correggere appunto questo errore ma si potrebbe creare appunto un contrasto tra quello che ritiene il RUP e quello che ritiene la commissione quindi alla fine decide il dirigente diversamente opinando quel giudizio che ha condotto a ritenere ammissibile l'offerta da parte della commissione tecnica tal fine appositamente costituita finirebbe per essere sostituito da un giudizio personale del RUP che avrebbe così superato la discrezionalità tecnica esercitata dalla commissione e questa è una sentenza del TAR Lombardia non può negarsi il potere della commissione di gara di riesaminare nell'esercizio il potere autotutela il procedimento di gara già espletato riaprendolo per emendarlo da errori commessi o da illegittimità verificarsi questo è anche una sentenza del Consiglio di Stato del 2018 quindi anche se si rilevano errori che possono essere rilevati da RUP ma possono anche essere rilevati nell'ambito della partecipazione al procedimento amministrativo da uno dei concorrenti nell'ambito della procedura però in quel caso dovrebbe essere sempre il RUP a reinvestire la commissione di gara quando la commissione di gara passa gli atti al RUP allora il suo potere si è esaurito quindi non può più riprendere questa valutazione a meno che non attivi diciamo essa stessa magari si rende conto che c'è stato qualcosa di sbagliato e allora può segnalare essa stessa al RUP diciamo questo eventuale errore commesso oppure se ne accorge il RUP e rimanda gli atti alla commissione di gara per correggerli secondo una sentenza del Consiglio di Stato invece e quindi torniamo al discorso anche sul contrasto di giurisprudenza sono del tutto residuali le ipotesi in cui la commissione di gara deve essere riconvocata a seguito dell'emersione di errori o lacune nel suo operato infatti in via ordinaria a seguito del completamento dei lavori della commissione è il RUP a dover esercitare i suoi poteri di verifica e controllo nell'esercizio della sua tipica funzione di verifica e supervisione sull'operato della commissione medesima e quindi vedete come non ci sia uniformità anche nelle decisioni del Consiglio di Stato perché prima abbiamo detto no ma la procedura corretta qual è? il RUP nel suo potere discrezionale e dovere anche di andare a verificare l'operato della commissione di gara può rinviare nel momento in cui si accorge che è stato commesso un errore rinvia gli atti alla commissione stessa perché questa li corregga invece c'è un'altra sentenza che dice ma no ma nel momento in cui il RUP si accorge che è stato commesso un errore quell'errore è evidente oggettivo quindi non si può discutere insomma di questo e allora lo corregge lui stesso non c'è bisogno di rinviarlo alla commissione di gara quindi come vedete è veramente diciamo c'è una diciamo una congerie anche di interpretazioni che sono diverse sul punto si richiama peraltro quanto già evidenziato da una sentenza del 2007 del Consiglio di Stato a mente della quale l'amministrazione legittimata in base a motivate ragioni tecniche evidenziate dalla proposta del RUP a non procedere all'approvazione della giudicazione provvisoria può discrezionalmente optare per due diverse soluzioni o avvalersi ai fini della scelta del contraente della procedura già espletata con scorrimento della gradatoria precedentemente formata dalla commissione o indire un nuovo esperimento di gara quindi addirittura questo contrasto può portare a due diverse soluzioni o allo scorrimento della gradatoria nel caso in cui l'errore nella valutazione abbia comportato la giudicazione a un soggetto diverso da quello che legittimamente avrebbe dovuto vincere appunto la gara oppure addirittura indire un nuovo esperimento di gara a conferma diciamo di questa interpretazione secondo la quale l'amministrazione e quindi il RUP può anche procedere direttamente senza reinvestire la commissione per correggere un errore che appare evidente quindi vedete già c'è questo contrasto e non è un contrasto da poco sulla procedura da adottare secondo la mia personale visione io credo che la commissione di gara ha il compito di valutare nel momento in cui c'è qualche errore che si rileva sulla valutazione della commissione a mio avviso è corretto rinviare gli atti alla commissione e dare la possibilità a questa di emendare il suo operato qualora la commissione motivatamente invece ritenesse non dover correggere il suo errore e quindi questo darebbe anche forza attraverso il contraddittorio alla decisione finale e allora si crea il contrasto appunto tra RUP e commissione di gara che va risolto dal dirigente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento per me è questa la soluzione corretta ed è questa che io adotterei però ripeto ci sono anche autorevoli sentenze che invece ritengono che possa agire direttamente anche l'amministrazione senza necessità appunto di ricorrere appunto a questa navetta tra la commissione e il RUP abbiamo detto prima soprattutto che per quanto riguarda i lavori pubblici il RUP deve essere dotato di competenze tecniche particolari quindi il RUP deve essere un tecnico e ove non sia presente tale figura professionale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio relativo al lavoro realizzare ma anche il responsabile del servizio può essere sprovvisto di queste competenze tecniche quindi il problema rimane abbiamo dei lavori che vengono effettuati e abbiamo diciamo un RUP che non è in possesso diciamo delle competenze tecniche necessarie per svolgere i compiti così importanti no? che abbiamo visto di vigilanza sull'operato dell'operatore economico appunto che esegue l'appalto nel caso in cui nell'organico diciamo da questo punto di vista il legislatore ha previsto un ancora diciamo di salvataggio qual è quest'ancora di salvataggio? nel caso in cui nell'organico della stazione appaltante non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti del RUP secondo quanto attestato dal dirigente competente i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati a soggetti aventi specifiche competenze dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali quindi c'è la possibilità di individuare il supporto all'attività del RUP affidando questo compito di supporto a soggetti aventi specifiche competenze quindi per supportare appunto l'attività del RUP e questi soggetti devono peraltro essere anche dotati soggetti anche esterni dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera realizzata e quindi non solo lavori ma anche forniture o servizi che siano particolarmente complessi perché una cosa è acquistare appunto una fotocopiatrice e altra cosa è acquistare un impianto di compostaggio quindi entrambi rientrano nelle forniture ma sono due valutazioni che sono completamente diverse e richiedono valutazioni e competenze altamente specialistiche quindi anche in questo caso il RUP propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa da individuare nei primi atti di gara quindi c'è questa appunto ancora di salvataggio nel caso in cui nei lavori ma anche nei servizi di forniture di particolare complessità o che siano altamente specialistiche il RUP può avvalersi di questi soggetti che sono incaricati di fornire appunto supporto al RUP la stazione appaltante può anche nell'ambito della propria autonomia organizzativa istituire una struttura stabile a supporto del RUP quindi non nominando di volta in volta i vari soggetti che devono supportare il RUP ma nominando una struttura stabile a supporto del RUP soprattutto nel caso in cui mancano manchino risorse tecniche la stazione appaltante nell'ambito della formazione obbligatoria poi organizza un'attività formativa specifica volta proprio ad accrescere le competenze professionali dei RUP nella materia appunto degli appalti pubblici ed è quello che in sostanza stiamo facendo adesso veniamo a quelli che sono i requisiti di professionalità del RUP ovviamente ho tralasciato questi aspetti per quanto riguarda gli appalti e i lavori ci concentriamo sugli appalti di forniture e servizi sotto soglia ma lo vedremo anche incidentalmente diciamo quello che è previsto per gli appalti sopra soglia quindi per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui è l'articolo 35 del codice il RUP è in possesso alternativamente di quindi OSHA 1 OSHA 2 OSHA 3 quindi diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione progettazione affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture quindi occorre diciamo innanzitutto diploma e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nel campo degli appalti pubblici in alternativa una laurea triennale quindi si alza il livello del titolo di studio si abbassa l'esperienza quindi l'esperienza della quinquennale diventa triennale nell'ambito sempre dell'attività di programmazione progettazione affidamento esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture ancora in alternativa è prevista la laurea quinquennale quindi la laurea magistrale o di vecchio ordinamento e l'esperienza si abbassa ancora diventa biennale sempre nell'ambito dell'attività di programmazione progettazione affidamento esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture quindi vedete questo è il ventaglio dei requisiti professionali del RUP per gli appalti di forniture e servizi sotto soglia per quanto riguarda invece gli appalti sopra soglia quindi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui è l'articolo 35 abbiamo visto l'altra volta che la soglia dal primo gennaio del 2022 è passata a 215 mila euro il RUP questo naturalmente per le amministrazioni subcentrali come la vostra il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale magistrale o specialistica e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'attività di programmazione progettazione affidamento esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture quindi aumenta diciamo sia il titolo di studio che il il corso degli anni di esperienza possono svolgere altresì le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine un corso di studio quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito sempre dell'attività di programmazione presentazione affidamento esecuzione di appalti e concessione di servizi e forniture quindi si alza ovviamente il livello più aumenta diciamo l'importo dell'appalto e più è richiesto un requisito professionale adeguato questo non lo prevede la legge lo prevedono le linee guida dell'ANAC numero 3 poi sono previsti ulteriormente dei requisiti negli appalti di forniture e servizi specialistici quindi per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche abbiamo fatto prima il caso dell'impianto di compostaggio è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento quindi occorre un titolo di studio che sia attinente alla materia oggetto dell'affidamento poi per gli acquisti di prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche per esempio dispositivi medici dispositivi antincendio sistemi informativi e telematici la stazione appaltante può richiedere può attenzione oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza richiesti per gli appalti sotto e sopra soglia quelli che abbiamo visto prima può richiedere anche in più il possesso della laurea magistrale o coinquennale e di specifiche competenze o addirittura abilitazioni tecniche o l'abilitazione all'esercizio della progressione quindi per diciamo ma questa è una facoltà dell'amministrazione che quindi può aumentare quelli che sono i requisiti previsti dalle linee guida ANAC numero tre in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui è l'articolo trentotto del codice ne abbiamo parlato quando ci siamo visti a Palermo quindi il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti che allo Stato è sospeso che uno dei cardini della riforma del codice degli appalti ma non è entrato in vigore perché manca il decreto ministeriale che deve fissare i criteri diciamo di valutazione per la qualificazione delle stazioni appaltanti questo manca e quindi non è possibile procedere al nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ma quando entrerà in vigore questo sistema a prescindere anche dall'importo del contratto il RUP dovrà possedere oltre ai requisiti già indicati adeguata formazione in materia di project management quindi attenzione perché ci sarà bisogno poi di un'adeguata formazione specifica che va ad integrare diciamo quelle che sono le competenze i requisiti professionali previsti per la nomina a RUP quindi attenzione diciamo per questo quando entrerà in vigore questo sistema di qualificazione occorrerà formare i RUP anche su questo aspetto specifico vediamo questa domanda ma come si valutano i requisiti di professionalità del RUP negli appalti di servizi e forniture la risposta il paragrafo 7.1 delle linee guida ANAC numero 3 stabilisce che il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura complessità e o importo dell'intervento alternativamente alle dipendenze di stazioni appaltanti nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico amministrativo nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo subordinato o di consulenza in favore di imprese quindi noi possiamo avere un'esperienza nel campo degli appalti i famosi diciamo cinque anni o due anni o tre anni o dieci anni a seconda poi dell'importo degli appalti e quindi come facciamo a individuare questa esperienza quindi o ci deve essere stata un'esperienza pregressa nel ruolo di RUP oppure anche nello svolgimento quindi nell'ambito di stazioni appaltanti quindi nell'ambito diciamo della pubblica amministrazione o organismi di diritto pubblico nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico amministrativo e quindi c'è questa valutazione ma a questo si può aggiungere anche un'esperienza maturata anche eventualmente nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo subordinato o di consulenza in favore di imprese quindi si deve andare a verificare il curriculum ovviamente della persona incaricata della funzione di RUP vediamo quest'altra domanda cosa succede se l'ufficio non ha nessun soggetto in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per la nomina RUP negli appalti di servizi e forniture quindi nel caso in cui non ci sia nell'ufficio nessun soggetto che sia in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per la nomina a RUP e come si deve comportare l'ufficio come si fa in questo caso il paragrafo 2.4 delle linee guida ANAC numero 3 stabilisce che qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti quindi è previsto il caso in cui nell'ambito della stazione appaltante non ci sia nessun soggetto in possesso delle professionalità necessarie allora in questo caso che deve fare la stazione appaltante non può fare altro siccome il RUP deve essere un dipendente quindi non può essere nominato un esterno può individuare un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti nel caso in cui si è individuato un RUP carente dei requisiti richiesti la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto a RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo a RUP o in mancanza a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle linee guida quindi diciamo che il requisito della professionalità diventa non indispensabile per la nomina RUP ma diventa invece necessario fornire un supporto al RUP che può essere appunto fornito da altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo a RUP o in mancanza anche rivolgendosi a soggetti esterni aventi le competenze richieste dal codice per lo svolgimento del ruolo di RUP anche diciamo se serve questa competenza per lo svolgimento di attività di supporto al RUP vediamo quest'altra domanda ma sono previste deroghe al possesso dei requisiti di professionalità richiesti per la nomina RUP negli appalti di servizi e forniture l'unica deroga è prevista al paragrafo 11.1 delle linee guida ANAC numero 3 ovviamente oltre quella che abbiamo visto quando non c'è nell'ambito della stazione appaltante nessuno che può svolgere quel ruolo allora il paragrafo 11.1 delle linee guida ANAC numero 3 stabilisce che la stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni che prevedono i requisiti di professionalità negli acquisti centralizzati e aggregati in considerazione delle minori attività assegnate al RUP fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate cioè quando l'appalto viene affidato a una centrale unica di committenza una stazione unica appaltante e allora in quel caso la stazione appaltante può prevedere delle deroghe ai requisiti di professionalità perché ovviamente i compiti del RUP sono diminuiti perché una parte dei compiti risvolge la centrale unica di committenza oppure la stazione unica appaltante quindi è corretto in questi casi per prevedere le deroghe fermo restando l'obbligo dicono le linee guida dell'ANAC di garantire professionalità e competenze adeguate allo svolgimento delle mansioni affidate di RUP quindi la deroga a parte il caso in cui non ci sia nessuno diciamo che possa svolgere il ruolo di RUP con i requisiti previsti appunto dalle linee guida ANAC numero 3 che abbiamo visto in precedenza e allora tranne questo caso la deroga è prevista nel caso in cui l'affidamento avvenga a una centrale unica di committenza o una stazione unica appaltante perché per una motivazione ben precisa perché in questo caso le funzioni da svolgere sono minori perché una parte la svolge appunto la stazione unica appaltante o la centrale unica di committenza e quindi si trova giustificazione il fatto che il RUP possa avere una competenza professionale diciamo inferiore a quelli che sono i requisiti standard fissati dalle linee guida ANAC nulla però si dice poi che cosa succede nel caso in cui si nomini un RUP diciamo che non è in possesso diciamo dei requisiti previsti da questo punto di vista né il codice degli appalti né le linee guida ANAC dicono nulla quindi diciamo dovemmo ragionare per massimi sistemi e dire che diciamo la nomina è ovviamente legittima fino a quando non c'è un annullamento diciamo di quella nomina da parte diciamo di un giudice e quindi si continua ovviamente diciamo con quella attività ma su questo questa ovviamente è una zona grigia perché non abbiamo nessuna disposizione che regola diciamo questo ulteriore aspetto quindi possiamo solo ragionare per massimi sistemi ovviamente massimi sistemi prevedono che una nomina di un soggetto effettuata senza diciamo che questo soggetto abbia i requisiti di richiesti ma siccome l'ufficio non può essere rifiutato continua e poi fino a quando diciamo non c'è un annullamento di quell'atto di nomina eventualmente per andare a verificare la illegittimità poi diciamo molto si va a verificare anche su quelli che sono i requisiti perché ce l'ho non ce l'ho perché come avete visto riguarda l'esperienza diciamo complessiva quindi è anche una questione se volete di andare nello specifico dei compiti svolti in passato del curriculum della persona poi incaricata delle funzioni di RUP bene vediamo invece quelli che sono i compiti del RUP negli appalti di fornitura e servizi quindi compiti specifici del RUP poi intorno alle 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 11 facciamo una breve una breve pausa quindi dicevo il RUP nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura fornisce poi all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice per gli atti di competenza dati informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali della risoluzione contattuale del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controverse e questo è coerente con il suo ruolo di vigilante sulla procedura anche nella fase di esecuzione nonché ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali quindi vedete è molto incisivo il potere del RUP nella fase di esecuzione del contratto ancorché il RUP poi si avvalga di altre figure professionali laddove previste negli appalti di servizi e forniture c'è il DEC ma anche laddove è presente il DEC e il RUP comunque che ha l'ultima parola diciamo ovviamente il DEC opera in ausilio al RUP in particolare negli appalti di forniture e servizi il RUP non so c'è una domanda mi pare di aver visto sì Rino c'è una domanda dell'ingegnere di Chiara se vuoi te la leggo prego ingegnere eccoci o se vuole intervenire direttamente l'ingegnere sì prego deve riaccendere l'audio avevo scritto sì infatti si sente? sì sì ora è perfetto sì sì dicevo leggo quello che ho scritto in relazione al slide precedente avvocato dicevo nel caso in cui malauratamente si incappasse nell'annullamento di un provvedimento di nomina del RUP gli atti prodotti nell'espletamento della funzione che fine farebbero? questo mi è venuta questa domanda scontanea scendendo un po' il commento allo slide precedente grazie ma diciamo sempre ragionando per massimi sistemi allora il massimo sistema qual è? quello dell'annullamento di un atto di nomina quindi torna in gioco la questione del funzionario di fatto quindi laddove gli atti si sono consolidati perché non c'è stato diciamo nessun nessuno che li ha impugnati per questi motivi gli atti si sono consolidati e naturalmente sono pienamente operativi laddove invece ci sia qualcuno che ha impugnato diciamo gli atti mi riferisco non all'atto di nomina del RUP ma gli atti conseguenti eccependo anche diciamo quella 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 carenza quindi dei requisiti di professionalità e comunque allora questi atti potrebbero essere annullati quindi la tematica ripete entra in gioco il funzionario di fatto quindi funzionario di fatto che significa cioè quando c'è un funzionario che esercita la sua funzione ma l'atto di nomina non è non è legittimo no e quindi i casi di scuola quando non aveva il titolo di studio per essere nominato no e quindi questi sono ma anche quando l'atto di nomina è legittimo quindi è la stessa cosa e allora che cosa si fa l'ordinamento deve salvare no in qualche modo salvaguardare quelli che sono gli effetti consolidati che si sono prodotti in questo caso allora se si sono se la procedura è stata svolta nessuno diciamo ha eccepito nulla l'appalto è stato eseguito e allora è chiaro che non c'è nulla da temere da questo punto di vista viceversa laddove invece l'atto sia stato impugnato c'è una come dire una una situazione anche di di contenzioso diciamo su questo e allora questo potrebbe produrre le conseguenze in relazione a quegli atti che sono comunque subiudice ecco questo è un po' il concetto ma ripeto ragioniamo sempre per i massimi sistemi non c'è nessuna regola men che mai giurisprudenza diciamo su questo aspetto molto 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 particolare insomma ecco spero di aver risposto sì sì va bene grazie era questo il senso sì grazie prego allora dicevamo quelli che sono i compiti del RUP negli appalti di fornitura e servizi quindi vedete sempre compiti molto diciamo incisivi coordina o cura le attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento richiede all'amministrazione a giuricatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quindi sono compiti molto specifici negli appalti di fornitura e servizi svolge nei limiti previsti anche le funzioni direttore dell'esecuzione del contratto laddove diciamo non si raggiunge un certo limite di importo svolge in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato le attività di controllo e vigilanza in coordinamento quindi non sono lasciate al direttore dell'esecuzione del contratto le attività di controllo e vigilanza è una fase di esecuzione acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione o la giudicatrice per gli atti di competenza dati informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali della risoluzione contrattuale del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controverse rilascia l'attestato di regolare esecuzione o conferma l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dell'esecuzione quindi vedete anche già nella fase finale ha un ruolo importantissimo fondamentale predispone un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e al termine dell'esecuzione presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate anche a sorpresa ovviamente questo rileva ovviamente negli appalti soprattutto di servizi diciamo anche quelli continuativi e questo diciamo un ruolo di vigilanza che è molto importante diciamo a carico del RUP per quanto riguarda il responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati abbiamo visto che è l'unico caso in cui i RUP sono due perché c'è il RUP nominato dalla stazione appaltante e il RUP nominato dalla centrale di comitazione e questo è l'unico caso perché appunto si chiama responsabile unico del procedimento amministrativo ma in questo caso una parte del procedimento è affidata a un'altra stazione appaltante quindi la stazione unica appaltante o alla centrale di committenza e allora in questo caso la responsabilità va ripartita va suddivisa attraverso la nomina di un altro responsabile unico del procedimento quindi vedete in caso di acquisti centralizzati e aggregati le funzioni di responsabile del procedimento nell'ambito dello svolgimento della gara sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP della centrale di committenza secondo le rispettive competenze evitando la sovrapposizione di attività che in effetti non ci può essere perché il RUP della centrale di committenza svolge le funzioni della gara dell'affidamento quindi questa è una funzione specifica della centrale di committenza e questa funzione specifica viene vigilata dal RUP nominato dalla centrale di committenza per quanto riguarda la verifica dell'anomalia dell'offerta a chi spetta diciamo questa verifica allora nel bando di gara la stazione appaltante indica se in caso di aggiudicazione con il criterio del miglior prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo la verifica di congruità dell'offerta è rimessa direttamente al RUP o ad altri soggetti tra cui la commissione nominata ex articolo settantasette del codice nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa quindi il problema è quando siamo in presenza di una gara giudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e si verifica alla fine della gara un'anomalia dell'offerta cioè l'offerta risultata migliore è un'offerta anomala quindi eccessivamente bassa allora in questo caso la valutazione sull'anomalia dell'offerta chi la deve fare il RUP o la commissione di gara anche in vigenza del decreto esativo 50 del 2016 il legislatore ha rimesso al RUP ogni valutazione innanzitutto in ordine al soggetto cui affidare la verifica dell'anomalia dell'offerta non escludendo che a seconda dei casi possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase adeguata quindi quella di verifica dell'anomalia dell'offerta quindi nella sua funzione diciamo di dominus è il RUP che decide se questa valutazione dell'anomalia dell'offerta questa verifica dell'anomalia dell'offerta debba essere fatta da lui stesso oppure debba essere demandata alla commissione aggiudicatrice ovviamente nel caso in cui questa commissione aggiudicatrice sia nominata perché la procedura prevedeva l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa naturalmente nel caso invece in cui già il bando prevede la scelta cioè se eventualmente questa funzione è demandata alla commissione e allora a RUP è preclusa ogni valutazione ovviamente lo ha deciso già la stazione appaltante con la previsione precisa nell'ambito del del bando di gara allora quindi andiamo nello specifico a questa domanda la verifica dell'anomalia dell'offerta deve essere effettuata da RUP o dalla commissione di gara quindi sub procedimento di anomalia dell'offerta e di competenza del RUP abbiamo visto e non della commissione di gara le cui incombenze si esauriscono con la valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico ex articolo settantasette del decreto risalivo cinquanta del dundiaset il fatto che il RUP proceda direttamente alla verifica di anomalia non costituisce vizio di legittimità della procedura le linee guida ANAC numero tre al punto cinque punto tre confermano tale principio avendo il RUP una mera facoltà e non un obbligo di avvalersi del supporto della commissione di gara quindi è il RUP che decide pacifico il legislatore ha dimesso a RUP ogni valutazione in ordine al soggetto cui affidare la verifica non escludendo che a seconda dei casi possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltana o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice questo questo indirizzo trova conferma conforto diciamo nella sentenza è una sentenza recente del Consiglio di Stato del 2020 quindi è il RUP che decide quindi chi effettua la verifica della nomadina dell'offerta decide il RUP a meno che ovviamente non sia già indicato nel bando di gara decide il RUP se la verifica l'effetto lui stesso la verifica un altro ufficio della stazione appaltante o la verifica la commissione aggiudicatece nel caso ovviamente dell'offerta economicamente più vantaggiusta vediamo quest'altra domanda poi facciamo una pausa il RUP può eseguire la verifica di un'offerta che non raggiunge la soglia di anomalia quindi abbiamo visto eh che ovviamente è obbligatorio andare a verificare eh la l'offerta anomala no? quindi nel caso in cui si raggiunge la soglia di anomalia ma se non si raggiunge la soglia di anomalia comunque il RUP può andare a verificare comunque un'offerta che lui ritiene anomala allora in tema di gare pubbliche non è precluso al RUP di procedere la verifica di anomalia anche se non ricorrono i presupposti di legge che rendono tale verifica obbligatoria e anche se il bando di gara non contempla la possibilità di una verifica facoltativa quindi attenzione al RUP è ehm concesso di andare a verificare un'offerta eh anomala eh anche se diciamo non risponde ai ai criteri anomalia peraltro proprio in Sicilia c'è stato un caso proprio che ha riguardato la regione non mi ricordo insomma quale quale ufficio della regione eh ma comunque c'era proprio un'offerta economicamente più vantaggiosa eh dove c'era un eh voi sapete i quattro quinti sia dell'offerta tecnica che dell'offerta economica nel caso in cui eh sia inferiore diciamo al eh il il punteggio eh dell'offerta economica dell'offerta tecnica ai quattro quinti e allora scatta l'anomalia dell'offerta in quel caso non scattava per l'offerta tecnica ma c'era un'offerta economica a ben orme e allora in quel caso anche il Tar Sicilia ha ritenuto legittima eh la verifica eh da parte del del RUP dell'anomalia dell'offerta intanto è vero che poi l'appalto è stata giudicata al secondo in particolare l'amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere alla verifica facoltativa della congruità dell'offerta il cui esercizio o mancato esercizio non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errori di fatto questa è una sentenza del Tar Campania ma come abbiamo visto è un orientamento diciamo diffuso abbastanza facile quindi sì laddove c'è una cosa strana tipo quella che vi ho indicato quando l'offerta tecnica diciamo non raggiunge la sua anomalia ma l'offerta economica sì ed è abnorme in quel caso parlavamo di una differenza veramente notevolissima tra il primo e il secondo classificato si può procedere il gruppo può procedere alla verifica di anomalie dell'offerta quindi chiedendo spiegazioni all'operatore economico che si presenta come aggiudicatario dell'offerta allora la domanda è i soggetti incaricati con articolo centodieci del decreto legislativo 267 del 2000 possono fare il RUP articolo 110 è quello che prevede i contratti a tempo determinato diciamo testo unico degli enti locali quindi degli enti locali quindi ma la domanda è di carattere generale quindi i soggetti incaricati con contratto a tempo determinato possono fare il RUP perché abbiamo visto che il RUP deve essere un dipendente dell'amministrazione non può essere un esterno ma un dipendente a tempo determinato può fare il RUP allora l'articolo 31,1 del codice prevede che il RUP per le amministrazioni aggiudicateci deve essere un dipendente di ruolo la medesima norma stabilisce poi che in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio quindi un soggetto in servizio si deve intendere un dipendente assunto con contratto a tempo determinato oppure personale inquadrato in un contratto scaturito dalla convenzione con altri enti pubblici quindi il dipendente con contratto a tempo determinato nel caso di assenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate può essere incaricato della funzione di RUP sul tempo determinato il paragrafo 2.2 delle linee guida ANAC numero 3 stabilisce che il RUP è individuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31,1 del codice tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o in caso di carenza inorganico della società unità organizzativa tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche con l'assunzione a tempo determinato effettuata ai sensi dell'articolo 110 comma 1 e 2 che rientra nella fattispecie dell'articolo 36 del decreto esativo 165 del 2001 un soggetto esterno potrebbe essere nominato RUP solo ed esclusivamente in caso di carenza all'interno dell'ente di persone che possano ricoprire tale ruolo o in esse non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP del responsabile del procedimento quindi confermano le linee guida dell'ANAC quanto riportato prima quindi in prima battuta deve essere un dipendente di ruolo ma nel caso in cui ci sia una carenza di professionalità all'interno dell'ente allora può essere anche un dipendente con contratto a tempo determinato allora veniamo a questo caso molto spinoso il RUP può fare il presidente di una commissione di gara quindi gara con l'offerta economica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il RUP può fare il presidente della commissione di gara o anche il componente della commissione di gara e vediamo purtroppo vedevo che questo è uno dei casi più controversi che ci sono attualmente in giro diciamo ce ne sono tanti ma questo è uno dei più controversi l'articolo 77 comma 4 sempre la base giuridica bisogna individuare prima del decreto eserio 50 del 2016 prevede che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura quindi questa è la presione normativa la nomina del RUP a membro della commissione di gara non è esclusa a priori non è che si dice la norma dice non può partecipare dice che è valutata con riferimento alla singola procedura nelle procedure di evidenza pubblica il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e anche di presidente della commissione giudicatrice a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento degli stessi e queste sono sentenze vedete consiglio di stato duemiladiciotto tarra emilia romagna del duemilavente quindi si conferma che il RUP può partecipare alla commissione giudicatrice nell'offerta economicamente più vantaggiosa a meno che non sussista in concreto una ragione di incompatibilità tra i due ruoli ma desumibile da qualche comprovata ragione di interferenza o di condizionamento degli stessi una recente sentenza ha però stabilito che se il RUP ha partecipato alla predisposizione formazione degli atti di gara e questo avviene diciamo quasi sempre no? è il RUP che predispone forma gli atti di gara allora questa diciamo ehm eh redazione le formazioni degli atti di gara è automaticamente incompatibile e non può ricoprire quindi il ruolo di componente della commissione a prescindere da diverse valutazioni della stazione appaltare quindi basterebbe questo per eliminare il RUP dalla commissione di gara questa è una sentenza del TAR Lombardia del luglio del duemilaventi a norma dell'articolo settantasette comma quattro del decreto di diritto cinquanta del duemilasedici la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura dunque in linea di principio non vi è incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione dovendosi avere riguardo piuttosto al ruolo che in concreto il RUP ha svolto nella predisposizione degli atti di gara nel caso in cui il RUP abbia firmato gli atti contenenti la disciplina di gara ricorre però la diversa ipotesi di incompatibilità prevista dalla prima parte del precitato comma quattro dell'articolo settantasette del decreto legislativo cinquanta del duemilasedici a mente del quale i commissari non devono aver svolto ne possono svolgere alcun'altra funziona in carico tecnico amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta con la conseguenza che in tale atto in tale caso il RUP non può far parte della commissione di gara quindi andrebbe visto anche il comma tre dell'articolo settantasette scusate il comma quattro dell'articolo settantasette la prima parte in base al quale se i commissari hanno svolto qualche funzione relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e allora non possono svolgere la funzione di RUP questa è l'interpretazione perché diciamo la norma si presta anche ad altre interpretazioni più sul conflitto di interesse ma tant'è questa è stata la interpretazione del TAR Lombardia in questo caso non è finita una sentenza ancora più recente del Consiglio di Stato ha comunque ribaltato il principio giurisprudenziale affermato dal TAR Lombardia statuendo che sulla questione della nomina del RUP a membro o presidente in una commissione giudicatrice nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di una pubblica commessa la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata nel senso di escludere una incompatibilità automatica per il cumulo delle funzioni per essere invece indispensabile procedere a una valutazione caso per caso che tenga conto dell'esistenza di una qualche comprovata ragione di interferenza o condizionamento con la necessaria precisazione per la quale nell'una nell'altra può desumersi dal fatto che lo stesso soggetto abbia svolto funzioni nelle fasi della predisposizione della legge di gara e della sua concreta applicazione ribaltandosi altrimenti il rapporto tra il principio generale ed eccezione in quanto spettanti a RUP normalmente gli atti della procedura quindi vedete esattamente il contrario di quello che era stato previsto prima la sentenza di Tarlombardia diceva se il RUP ha predisposto gli atti di gara non può fare né il presidente né il membro della commissione di gara ma quest'altra sentenza invece dice ma questi il fatto che il RUP abbia redatto gli atti di gara è una funzione normale e rientra normalmente nelle sue funzioni per cui non può essere questa l'incompatibilità l'incompatibilità deve essere qualcosa di più concreto che sfocia appunto in un conflitto diciamo di interessi no? quindi questo è l'orientamento del consiglio di stato le circostanze adotte dall'appellante cioè l'avere RUP adottato l'avviso pubblico come pure l'atto di proroga dei termini per la presentazione di stanza e la nomina della commissione non costituiscono di per sé ragioni di condizionamento tali da indurre o ritenere incompatibile il cumulo delle funzioni precluso nella procedura adecuata questa è una sentenza del consiglio di stato sezione quinta del 7 gennaio del duemilaventura e quindi ha ribaltato vedete il principio espresso dal tar lombardia ma l'orientamento in precedenza riportato ha trovato conferma poi in alcune pronunce recenti dell'ANAC le quali hanno statuito che nelle procedure di evidenza pubblica il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi in grado di incidere sul processo formativo della volontà tesa alla valutazione delle offerte potendone condizionare l'esito e questi sono due pareri dell'ANAC del luglio del duemila ventuno quindi vedete è veramente diciamo c'è anche l'ANAC che si è pronunciato sul punto ma una sentenza recentissima del consiglio di stato ha ancora mutato l'orientamento sancendo in tal modo l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale stabilendo che il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell'articolo settantasette comma quattro e dunque quello per cui chi ha redatto l'ex specialis quindi il bando non può essere componente della commissione costituendo il principio di separazione tra chi predisponge il regolamento di gara e chi è chiamato concretamente ad applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata ad un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive e cioè non influenzate dalle scelte che l'hanno preceduta questa è una sentenza veramente recente del novembre del duemilaventuno della sezione sesta del consiglio di stato quindi oscilliamo tra queste due interpretazioni che entrambe hanno un senso una dice partendo dall'articolo settantasette comma quattro del codice dice ma non è preclusa la partecipazione dell'Europa a meno che non ci sia una concreta dimostrazione della incompatibilità diciamo di questa partecipazione che sfoce ovviamente in un conflitto di interesse e quindi occorre dimostrarlo in qualche modo ma il conflitto interesse non può emergere secondo questa interpretazione automaticamente dal fatto che il RUP ha redatto gli atti di gara perché rientra questo normalmente nelle sue funzioni questo questo diverso orientamento invece cosa dice dice no chi ha redatto la Lex Specialis non può essere componente della commissione per il principio della separazione delle funzioni perché chi ha redatto gli atti di gara in qualche modo quindi gli atti li ha fatti lui anche se c'è un'interpretazione da fare e allora può essere influenzato dal fatto che è stato lui diciamo a redigere il bando di gara e quindi può essere in qualche modo orientato a valutare in maniera diversa ecco non oggettiva ecco non non trasparente ecco questo è il punto entrambe le interpretazioni come vedete sono effettivamente diciamo sostenibili per cui per tornare al discorso che facciamo prima spesso ci arrovelliamo ma che dobbiamo fare facciamo in un modo facciamo in un altro eccetera eccetera e qui diciamo come fai fai probabilmente si sbaglia o si rischia di sbagliare nel senso che ci sono due orientamenti completamente diversi quindi non si sa se questa nomina del RUP a componente della commissione di gara sia legittima o illegittima io come sempre preferisco le soluzioni che siano definitive partecipa o non partecipa per me sarebbe meglio una norma che dice il RUP non può partecipare alla procedura di gara quindi cambiare completamente la norma perché il discorso che facciamo anche prima l'altra volta il legislatore quando emana una norma deve pensare alle ricadute cioè io non posso pensare sì ma posso nominarlo non posso nominarlo devo dimostrare che non c'è incompatibilità ma io ho redatto gli atti di gara quindi che c'è incompatibilità per questo già automaticamente oppure no meglio una norma che dica a mio avviso definitivamente non può partecipare punto e basta altrimenti pensiamo sempre alle interpretazioni e queste fanno perdere tempo e non fanno bene alle procedure questo è questo è il mio pensiero ovviamente vediamo quest'altra domanda sempre per entrare nell'operatività no della delle questioni che affronta il RUP può il RUP stabilire termini perentori nell'ambito della procedura di gara in virtù dell'attivo 31,4 del decreto legislativo 50 del 2016 è attribuito a RUP il compito di assicurare il regolare efficiente e sollecito svolgimento dei procedimenti amministrativi questi possono svolgersi in modo razionale solo se si sviluppano secondo fasi e passaggi logicamente correlati che conducono alla realizzazione dell'obiettivo perseguito quindi il RUP nell'ambito dei suoi compiti fondamentali ha ovviamente deve assicurare l'efficiente svolgimento dei procedimenti amministrativi quindi ha tutto il potere di far sì che questo procedimento si svolga regolarmente in maniera efficiente si deve allora ritenere che rientri tra i compiti del RUP anche intervenire per fare in modo che il passaggio da una fase all'altra della procedura avvenga nei termini giusti evitandone l'ingiustificata dilatazione con eccessivo differimento del momento in cui l'amministrazione può conseguire l'opera o il servizio dal privato ciò potrà fare anche imponendo ai privati il compimento delle attività necessarie entro termini perentori e queste sono sentenze del Consiglio di Stato del Consiglio di Stato del Tar Veneto quindi il RUP può stabilire lui dei termini perentori ed è quello che avviene normalmente per esempio nell'ambito della richiesta dei documenti per i soccorsi istruttori dammi questi documenti per sanare diciamo la mancanza la irregolarità nella presentazione della documentazione ma me li devi dare in un termine perentori se non me li dai entro questo termine sei escluso dalla procedura di gara quindi sì il RUP lo può fare rientra nell'ambito delle sue prerogative può il RUP derogare al principio di rotazione questa diciamo è una è interessante come concetto diciamo sarebbe ancora più interessante scusate sarebbe ancora più interessante dicevo perché c'è una diciamo un parere del Consiglio di Stato proprio del del 2019 che dice che relativamente agli acquisti per importi inferiori a 5.000 euro nella pubblica amministrazione il RUP può derogare al criterio della rotazione fermo restando che la determinazione di affidamento motivi la scelta dello stesso e questo è un parere appunto del Consiglio di Stato del 2019 quindi non è una una sentenza non è giurisprudenza è un parere però è un parere proprio relativo alle linee guida dell'ANAC le linee guida dell'ANAC però numero 4 al paragrafo 3 prevedono la deroga soltanto l'abbiamo visto l'altra volta per affidamenti di importo inferiore a 1000 euro quindi questo è un po' il punto il parere del Consiglio di Stato dice che si può derogare nell'ambito dei 5000 euro cosa che peraltro sarebbe corrispondente agli acquisti al di sotto dei 5000 euro per i quali non è obbligatorio il ricorso al MEPA al mercato elettronico della pubblica amministrazione quindi sarebbe corrispondente diciamo a questo invece le linee guida dell'ANAC però continuano a prevedere la deroga principale di radazione soltanto per gli affidamenti di importo inferiore a 1000 euro che è la vecchia soglia del per il quale per la quale è possibile l'affidamento al di fuori del MEPA quindi diciamo non è un contrasto perché diciamo quello che valgono sono le le linee guida dell'ANAC numero 3 e quindi dobbiamo tener conto di questo ma c'è un'indicazione diciamo importante anche da parte del Consiglio di Stato che potrebbe avvalorare un'interpretazione no orientata diciamo non è 1000 euro come prevede le linee guida dell'ANAC successivamente è intervenuta è intervenuta è intervenuta l'innalzamento della soglia perché prima ripeto era 1000 euro la soglia per evitare il ricorso al mercato elettorale della pubblicazione adesso è aumentata a 5000 euro e probabilmente diciamo è legata diciamo a questa nuova soglia però tant'è diciamo le linee guida ANAC numero 3 continuano a prevedere la deroga al principio di rotazione gli affidamenti di porti inferiori a 1000 euro io mi attengo sempre al principio di prudenza per cui seguo diciamo quell'indicazione delle linee guida ANAC numero 4 ma pur essendo consapevole che molto probabilmente non sarebbe sbagliata diciamo questa deroga anche fino ai 5000 euro ecco però io mi attengo al principio di prudenza quali sono gli obblighi di pubblicazione del RUP gli obblighi di pubblicazione sono attinenti al principio di trasparenza per cui devono essere pubblicati a cura del RUP sul profilo del committente nella sezione di amministrazione trasparente tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori opere servizi e forniture alle procedure per affidamento di appalti pubblici di servizi forniture lavori e opere di concorsi pubblici di progettazione di concorsi di idee e di concessioni alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ai provvedimenti di esclusione e di ammissione dei concorrenti quindi tutti gli atti che sono relativi alle procedure di CAR soprattutto quelli più importanti che riguardano l'esclusione l'ammissione l'aggiudicazione diciamo delle procedure di CAR devono essere pubblicati ad opera del RUP poi oltre l'obbligo di pubblicazione senza l'articolo 29 del decreto legislativo 50 del 2006 c'è anche quello di comunicazione individuale che riguarda appunto i propri enti di esclusione o di aggiudicazione o mancata aggiudicazione senza l'articolo 70 sec che va fatta a mezzo PEC diciamo per ai singoli aggiudicatari o non aggiudicatari che hanno partecipato alla procedura veniamo alla clausola di pantuflage ma la clausola di pantuflage si applica o non si applica al RUP vediamo questo è importante vediamo che cosa dice la legge innanzitutto che cos'è la clausola di pantuflage l'articolo 1,42 lettera L della legge 190 del 2012 ha contemplato l'ipotesi relativa alla cosiddetta incompatibilità successiva pantuflage introducendo all'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001 il comma 16 ter dove è disposto il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri quindi diciamo il divieto per i tre anni successivi all'andata in quiescenza per i dipendenti di svolgere attività lavorativa per i soggetti privati che sono stati destinatari dell'esercizio dei suoi poteri autoritativi o negoziali ma rientra anche il ruppo in questa previsione la conseguenza sanzionatoria dell'inosservanza del divieto è la nullità del contratto concluso e dell'incarico confetto inoltre è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti quindi una società una ditta un operatore economico che assumesse alle sue dipendenze un RUP che in qualche modo diciamo ha svolto procedure che hanno riguardato la giudicazione di contratti a questa società e potrebbe vedersi delle sanzioni vedersi combinate delle sanzioni importanti anche la nullità del contratto concluso e addirittura l'impossibilità di contrattare con la pubblica le restazioni nei tre anni successivi e la restituzione dei compensi eventualmente percepiti quindi un disastro da questo punto di vista i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali sono soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente tali poteri per conto della pubblica amministrazione attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'Ente a titolo esemplificativo i dirigenti funzionari che svolgono incarichi dirigenziali ad esempio ai sensi dell'articolo 19,6 del decreto usativo 165 del 2001 o ai sensi dell'articolo 110 del decreto usativo 267 del 2000 quindi la funzione dirigenziale quindi con rappresentanza all'esterno dell'amministrazione o che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite delega di rappresentanza all'esterno dell'Ente questo è l'orientamento dell'ANAC numero 2 del 4 febbraio del 2015 il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli può configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale collaborando all'istruttoria ad esempio attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori pareri perizie certificazioni che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione questo è il parere dell'ANAC del 21 ottobre 2015 e l'orientamento 24 del 2015 pertanto il divieto di pantuflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto quindi al dirigente al funzionario apicale a seconda poi dell'amministrazione ovviamente dell'ordinamento dell'amministrazione ma anche a coloro che hanno partecipato in maniera significativa al procedimento in fase istruttoria anche con atti endoprocedimentali orientandone comunque la conclusione in un determinato modo quindi ecco questa è l'interpretazione quindi poteri autoritativi e negoziali non solo chi ha il potere di firma ma anche diciamo chi ha esercitato nella fase istruttoria un potere diciamo che è orientato in maniera significativa l'andamento di quella gara di appalto quindi la clausola di pantuflage si applica anche ai RUP quindi attenzione perché per tre anni successivi non c'è il divieto diciamo di essere assunti o comunque collaborare con società per le quali diciamo il RUP ha operato per l'affidamento di appalti che sono stati coinvolti da questi procedimenti vediamo quest'altra domanda la competenza di emanare provvedimenti di esclusione dalle gare è del RUP o del dirigente quindi se si deve emanare un provvedimento di esclusione da una gara di appalto questa competenza emanare questo provvedimento è del RUP o del dirigente chi firma l'articolo 31,3 del decreto legislativo 50 del 2016 stabilisce che il RUP ai sensi della legge 241 del 1990 svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione progettazione affidamento ed esecuzione previste dal presente codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti quindi svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione progettazione affidamento ed esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti la giustizia amministrativa nell'interpretare il citato articolo 31 comma eh 13 eh del eh decreto legislativo 50 del 2016 eh comma 3 scusate ha stabilito che la disposizione richiamata delinea la competenza del responsabile unico del procedimento in termini residuali quindi sentenza del Tar Campania competenza che si estende anche all'adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara secondo un orientamento del consiglio di stato ha definito pacifico quindi sarebbe diciamo eh rientrato diciamo in questa eh competenza ma laddove naturalmente abbia la competenza per emanare questo provvedimento di esclusione del soggetto quindi la competenza ad emanare i provvedimenti di revoca annullamento delle gare di appalto e del ruppo del dirigente sussiste la riserva del dirigente del settore e non al ruppo della competenza all'emanazione degli atti a rilevanza esterna quando assumano una valenza decisoria la revoca della giudicazione di gara non è di competenza del responsabile unico del procedimento privo di poteri gestionali ma del dirigente preposto responsabile del servizio si tratta di un atto che rientra nella competenza del soggetto che ha poteri gestionali e quindi del responsabile del servizio per il comune questa è una sentenza del TAR Calabria ma la questione va risolta in base alla competenza cioè non ci deve essere un sovvertimento della competenza no? stabilita nell'ambito della procedura il e il dirigente il che ha la competenza ad emanare provvedimenti che hanno effetto nelle posizioni giuridiche dei destinatari e quindi questa competenza va rispettata quindi il provvedimento di esclusione per esempio può essere emanato da RUP così come il provvedimento di revoca annullamento legale può essere emanato da RUP soltanto quando il RUP abbia la competenza diciamo per emanare provvedimenti di questo tipo quindi o è un dirigente oppure nell'ambito di altre amministrazioni che non hanno dirigenti per esempio una figura apicale nell'ordinamento in caso di dichiarazione resa nel documento di gara unico europeo e poi riscontrata non veritiera è obbligatoria la segnalazione all'ANAC allora se la dichiarazione non veritiera ha comportato l'esclusione dell'operatore economico dalla gara di appalto è obbligatoria la comunicazione all'ANAC da parte della stazione appaltata poi ovviamente c'è una valutazione anche discrezionale se quella valutazione se quella dichiarazione è stata effettuata magari in buona fede quindi va verificata diciamo anche la buona fede del soggetto l'errore diciamo da parte del soggetto magari si escluderà comunque dalla gara ma non si procederà alla comunicazione all'ANAC da parte della stazione appaltata viceversa laddove si riscontra che c'è stata una diciamo una dichiarazione magari dolosamente falsa e allora va effettuata la comunicazione all'ANAC diciamo che questa poi le disposizioni non è che prevedono diciamo questa alternativa le disposizioni prevedono dichiarazione non veritiera e allora in questo caso va segnalata all'ANAC diciamo la questa situazione da parte della stazione appaltata in caso di aggiudicazione dell'appalto con il criterio del prezzo più basso è sempre il RUP che esegue la verifica delle offerte abbiamo visto ai sensi dell'articolo 31,9 del decreto legislativo 50 del 2016 la stazione appaltante può anche istituire una commissione a supporto del RUP quindi per la verifica delle offerte quindi abbiamo il caso in cui non c'è la commissione giudicatrice che viene nominata abbiamo visto soltanto nelle offerte economicamente più vantaggiosi quindi nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso è il RUP che dovrebbe effettuare la verifica dell'offerta ma è sempre il RUP no perché nel caso del prezzo più basso la stazione appaltante può anche istituire una commissione a supporto del RUP non è precluso rientra nella determinazione autoorganizzativa dell'amministrazione addirittura il paragrafo 5.3 delle linee guida ANAC numero 3 prevede che in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi ritiene in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste può avvalersi della struttura di supporto istituita all'essenza dell'articolo 31,9 del codice o di commissione addirittura nominata ad hoc e questa è una sentenza diciamo dell'organo di appello della regione Sicilia il consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia una sentenza recentissima peraltro del gennaio del 2020 quindi è vero che è il RUP che deve effettuare la valutazione delle offerte economiche ovviamente quando la procedura è al prezzo più basso ma è anche vero che rientra diciamo nella sua discrezionalità anche ovviamente la discrezionalità della stazione appaltante su sua proposta nominare nei casi di particolare complessità una commissione che naturalmente lo supporti in questa azione di verifica del prezzo più basso quindi rientriamo nella piena discrezionalità dell'amministrazione nella piena capacità di autodeterminazione vediamo all'ultima slide allora il RUP può rivolgersi ad una consulenza esterna nella procedura di verifica di anomalie dell'offerta abbiamo visto prima il caso della verifica dell'anomalia dell'offerta abbiamo visto che la competenza è del RUP ma diciamo questa verifica di anomalie dell'offerta il RUP la può anche demandare di nuovo alla commissione aggiudicatrice o addirittura un altro organo della stazione appaltante un altro ufficio della stazione appaltante in questo caso può anche rivolgersi ad una consulenza esterna nella procedura di verifica di anomalie dell'offerta nel caso in cui lo faccia lui stesso non può dubitarsi della legittimità della decisione del RUP di chiedere un apporto tecnico esterno nel caso di specie ad uno studio legale specializzato in diritto del lavoro per un'adeguata e corretta valutazione della congruità dell'offerta in ragione delle criticità emerse dalla sua analisi questa è un'altra sentenza recente dell'ottobre 2021 del Consiglio di Stato quindi sì la risposta è qualora la valutazione sia complicata perché magari occorre chiedere per districarsi attorno ai calcoli alle formule per quanto riguarda il costo soprattutto negli appalti ad alta intensità di mano d'opera e allora sì è legittimo avvalersi di una competenza esterna quindi che supporta il RUP nella valutazione della verifica dell'anomalia dell'offerta questa è una sentenza recente del Consiglio di Stato